disco viene scelto in base innanzitutto ai generi il macro genere di riferimento il jazz da una parte e il rock dall'altra per il jazz sono stati scelti i dischi più importanti più famosi e più venduti e questo perché in qualche modo per il jazz c'è un apparato critico piuttosto capiente una letteratura abbastanza soddisfacente in termini di quantità in termini di qualità meno e ho voluto riformare alcune alcune cose approfondirne altre e offrire il mio contributo in tal senso mentre per il rock il discorso è leggermente diverso ossia ci sono delle delle vendite di alcuni dischi di alcuni di alcuni artisti in particolare alcuni gruppi che hanno poi in qualche modo ovacizzato rubilato altre loro opere altrettanto se non più importanti nel sviluppo di loro stesse del genere nei quali si muovono e quindi cercare di dare luce fare luce e contribuire in questo senso a esaltare quel tipo di opere per per suscitare interesse nell'ascoltatore lettore grazie a tutti grazie a tutti